Iscriviti ai canali Blue Voice Alive e rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Le religioni tuttora sono d'accordo nell'affermare l'esistenza del paradiso e che la gioia della sua beatitudine segua una vita terrena ben spesa. Il cristianesimo e l'islam ne parlano come di una ricompensa offerta da Dio a coloro che lo hanno compiaciuto ma la maggior parte delle altre religioni lo descrivono piuttosto come la conseguenza inevitabile di una buona vita esattamente come il punto di vista teosofico. Eppure, nonostante tutte le religioni concordino nel dipingere questa vita felice con termini sfolgoranti, nessuna di esse è riuscita a descriverla in modo realistico. Tutto ciò che è stato scritto sul paradiso è talmente diverso da qualsiasi nostra esperienza che molte descrizioni ci sembrano quasi grottesche. Non siamo in grado di affermare questo riguardo a ciò che ci fu raccontato fin dall'infanzia ma se dovessimo ascoltare i racconti delle altre grandi religioni non esiteremmo a farlo. Nei libri buddisti o induisti si possono trovare magnifici racconti di giardini interminabili nei quali gli alberi sono d'oro o d'argento e i loro frutti di vari tipi di gioielli e saremmo tentati di sorridere finché non ci sovvenisse il pensiero che i nostri racconti di strade dorate e cancelli di perle potrebbero suonare altrettanto improbabili alle orecchie di un induista o di un buddista. Il fatto è che questi racconti ci appaiono ridicoli solo se li prendiamo alla lettera e se non capiamo che ogni scriba ha compiuto lo stesso tentativo dal suo punto di vista. Tentativi tutti falliti per il fatto che la grande verità che c'è al di là è assolutamente indescrivibile. Lo scrittore hindù ha senza dubbio visto alcuni dei meravigliosi giardini dei re indiani che presentano tali decorazioni. Lo scriba ebreo non ha familiarità con tali cose ma fa riferimento ad una città grandiosa e magnifica probabilmente Alessandria e così la sua concezione di splendore è una città diversa da qualsiasi altra per il materiale e le decorazioni sontuose. Ognuno di essi cerca di dipingere una verità troppo grande per le parole usando concetti familiari alla propria mente Ci sono stati alcuni che avendo visto la gloria del paradiso hanno cercato di descriverlo in modo confuso Fra questi ci sono alcuni nostri studenti e nel manuale teosofico numero 6 potete trovare il mio personale tentativo Adesso non parliamo di oro, di argento, di rubini e diamanti se vogliamo rendere l'idea di una raffinata bellezza di forme e colori Attingiamo piuttosto alla similitudine dei colori del tramonto e allo splendore del cielo e del mare perché ai nostri occhi rappresentano il paradiso E tuttavia chi di noi ha visto la verità sa che anche noi falliamo in questi tentativi né più né meno che gli scribi orientali nel tratteggiare un'idea della realtà del piano devacianico o paradiso che nessuna parola potrà mai dipingere anche se ognuno un giorno lo vedrà con i suoi occhi Perché questo paradiso non è un sogno È una realtà radiosa Ma per comprenderne qualcosa dobbiamo prima cambiare le nostre idee sull'argomento Il paradiso non è un posto ma uno stato di consapevolezza Se mi chiedete Dov'è il paradiso? Devo rispondervi che è qui Intorno a voi Proprio in questo momento Vicino a voi Come l'aria che respirate La luce è tutto intorno a voi Come Buddha disse molto tempo fa Per vederla dovete solo togliervi la benda dagli occhi Ma cosa vuol dire togliersi la benda? Cosa simboliggia questa frase? È semplicemente questione di elevare la consapevolezza Ad un livello superiore Di imparare a focalizzarla in un veicolo di materia più fine Ho già parlato della possibilità di fare questo Riguardo al corpo astrale Arrivando così a vedere il mondo astrale Questo necessita semplicemente Di un ulteriore passo Nello stesso processo L'innalzamento della consapevolezza Al piano mentale Perché l'uomo Ha un corpo anche per quel livello E attraverso di esso Può ricevere le sue vibrazioni E vivere così Nell'ucente splendore del paradiso Mentre ancora possiede un corpo fisico Anche se in realtà Dopo una tale esperienza Non proverà una grande attrattiva Nel tornare di nuovo Nel piano fisico L'uomo ordinario Raggiunge questo stato di beatitudine Solo dopo la morte E neanche immediatamente dopo Se non in rari casi Ho già spiegato Come dopo la morte L'ego si ritrae decisamente in se stesso L'intera vita astrale È infatti un costante processo di ripiegamenti E quando col passare del tempo L'anima raggiunge i limiti di quel piano Essa muore adesso Proprio nello stesso modo In cui era morta Sul piano fisico Cioè Essa si sfoglia del corpo di quel piano E se lo lascia alle spalle Mentre passa ad una vita Più elevata E più completa Nessun dolore o sofferenza Di alcun tipo Precede Questa seconda morte Ma Proprio come con la prima Si ha in genere Un periodo di incoscienza Dal quale ci si sveglia Gradualmente Alcuni anni fa Ho scritto un libro Intitolato Il piano devacianico In cui cercavo di descrivere Cosa avrebbe visto Schematizzando Per quanto potevo Le varie suddivisioni Di questa gloriosa Terra di luce Fornendo esempi Di ciò che era stato osservato Durante le nostre Investigazioni In questa vita celeste Al momento Cercherò di trattare L'argomento Da un altro punto di vista E coloro che desiderano Potranno integrare Le informazioni Leggendo anche Quel libro Forse L'affermazione iniziale Più completa È che Questo è il piano Della mente divina Che qui siamo proprio Nel regno del pensiero E che qualsiasi cosa L'uomo possa pensare Diventa Qui Una vivida Realtà Noi partiamo Col grande svantaggio Di giudicare Le cose materiali Come reali E quelle Non materiali Irreali Mentre Il fatto È Che le cose materiali Sono sepolte E nascoste In questa realtà E quindi diventano Riconoscibili Solo se osservate Da un punto di vista Più elevato Così Quando sentiamo Parlare Di un mondo Del pensiero Immediatamente Pensiamo Ad un mondo Irreale Fatto Della stessa Pasta Dei sogni Come dice Il poeta Cercate di capire Che quando un uomo Lascia il suo corpo Fisico Ed apre La sua consapevolezza Alla vita astrale La sua prima Sensazione È la realtà Vivida E intensa Di quella vita Così che Pensa Adesso Per la prima volta So che cosa È la vita Ma quando poi È la volta Di lasciare Quella vita Per un'altra Superiore Egli ripete Esattamente La stessa esperienza Perché quest'ultima È così Completa Ed intensa Di quell'astrale Che ancora una volta Nessun confronto È possibile E ancora C'è un'altra vita Oltre questa Che è come la luce Del sole Paragonata Alla luce Della luna Ma è inutile Parlarne ora Ci sono molti Che troveranno Assurdo Che un regno Del pensiero Sia più reale Di un mondo fisico Bene È giusto Che pensino Questo Finché non abbiano Sperimentato Una vita Più elevata Di questa E poi Ci sarà un momento Che conosceranno Molto più Di quanto Qualsiasi parola Fossa mai spiegare Dunque Su questo piano Troviamo L'infinita pienezza Della mente divina Completamente aperta Nel suo flusso Verso tutte le anime In proporzione A quanto Ognuna di esse Si sia preparata A riceverlo Se un uomo Ha già completato L'evoluzione A cui era destinato Se aveva Completamente Realizzato E dispiegato Il germe di divinità Che è Dentro di lui La pienezza Di questa gloria Sarà Alla sua portata Ma dal momento Che nessuno Di noi Ancora È giunto A ciò Dal momento Che ci stiamo Ancora Innalzando Gradualmente Verso quello Splendido Traguardo Nessuno Ancora Può Afferrarla Completamente E potrà Conoscere E attingerne Solo Quella parte Che col suo impegno Si è preparato A ricevere Individui diversi Avranno Capacità Diverse Come nella Metafora orientale Ognuno Porta la sua Ciotola Alcune Sono più Grandi Altre più Piccole Ma Grande o piccola Che sia Ogni tazza È riempita Fino all'orlo Il mare Di beatitudine È infinitamente Abbondante Tutte le religioni Hanno parlato Di questa Beatitudine Del paradiso Però Poche Hanno posto Di fronte a noi Con sufficiente Chiarezza E precisione Questa idea Dominante Che da sola Spiega Razionalmente Come sia possibile Tale benedizione Per tutti E questo In verità È la chiave Di volta Del concetto Il fatto Che ogni uomo Crea Il suo Proprio paradiso Attraverso La selezione Dà l'ineffabile Splendore Del pensiero Di Dio stesso Un uomo Decide per se stesso Sia la durata Che le caratteristiche Della sua vita celeste Attraverso quello Che ha creato Durante la sua vita terrena Perciò Egli Non può Non avere La quantità esatta Di ciò Che si è meritato Ed esattamente La qualità di gioia Che è la più adatta Le sue idiosincrasie Perché questo è un mondo Nel quale Ogni essere Deve Per il fatto stesso Di esservi consapevole Gioire Della più elevata Beatitudine Spirituale Della quale È capace Un mondo La cui capacità Di rispondere Alle sue Aspirazioni È limitata Solo Dalla sua Capacità Di aspirare Egli Si è costruito Un corpo astrale Attraverso i suoi desideri E le sue passioni Durante la vita terrena E deve vivere in esso Durante la sua esistenza astrale E tale esistenza È stata felice O infelice Per lui In accordo Col suo carattere Ora il tempo Del purgatorio È finito Perché la parte Inferiore Della sua natura Si è consumata Ora Restano solo I pensieri Più elevati E raffinati Le aspirazioni Nobili E altruistiche Che egli ha Espresso Durante la vita Terrena Queste Si raggruppano Attorno a lui E formano Una specie Di guscio Attraverso cui È in grado Di rispondere A certi tipi Di vibrazione In questa Materia sottile Questi pensieri Che lo circondano Sono il potere Che egli ha Di ricevere Il bene Del mondo celeste Che egli scopre Essere Un esauribile Magazzino Da cui Può attingere Proporzionalmente Al potere Di quei pensieri E aspirazioni Che Egli stesso Ha generato Nella vita Astrale Fisica Tutti i suoi affetti E devozioni Più elevati Producono Ora I loro risultati Poiché Qui non c'è Nient'altro Tutto ciò Che era Egoismo O Attaccamento È stato Lasciato indietro Nel piano Del desiderio Infatti Ci sono Due tipi Di affezioni Un tipo Che non è Neanche degno Di essere Chiamato Con tale Nome Che considera Sempre la Quantità Di amore Che riceve In cambio Del suo investimento In attaccamento Che si preoccupa Continuamente Della quantità Dell'affetto Che l'altra Persona Dimostra E per questo motivo È costantemente Imbrigliato Nel groviglio Della gelosia E del sospetto Tale emozione Piena Di attaccamento E sofferenza Produrrà Come risultato Il dubbio E la miseria Nel piano Del desiderio A cui appartiene Così Palesemente Ma c'è Un altro Tipo Di amore Che non sta Mai a pensare Quanto viene amato Ma ha Solo L'obiettivo Di riversarsi Senza alcuna Riserva Ai piedi Di chi è Rivolto E pensa Solo a come Meglio può Esprimere Quei fatti Il sentimento Che riempie Il suo cuore Così completamente Qui Non ci sono Limiti Poiché Non c'è Attaccamento Né trazione Verso Se stessi Né pensieri Di essere Ricambiati Ed è proprio A causa Dell'incredibile Forza Con cui si Riversa All'esterno Che non potrebbe Essere Espresso Da nessuna Materia Astrale Né potrebbe Essere Contenuto Dalle dimensioni Del piano Astrale Esso Necessita Di materia Più sottile E dello spazio Più ampio Del piano Superiore Perciò L'energia Generata Appartiene Al mondo Mentale Allo stesso Modo Esiste Una devozione Religiosa Che pensa Principalmente A cosa Otterrà Dalle sue Preghiere E si Abbassa Ad una Specie Di Contrattazione Mentre C'è anche Una devozione Genuina Completamente Dimentica Di sé Nella contemplazione Della divinità Tutti Tutti noi Sappiamo Bene Che Nella nostra Devozione Più alta C'è qualcosa Che non è ancora Mai stato Soddisfatto Che le nostre Più grandi Aspirazioni Non si sono mai Ancora realizzate Che quando Realmente Amiamo In questo Modo Incondizionato Il nostro Sentimento È ben al di là Di ogni potere Di espressione Su questo Piano Fisico Che la profonda Emozione Suscitata Nei nostri Cuore Ottuso Tutto Questo È una Forza Di potere Incredibile Al di là Di ogni Calcolo E deve Produrre Dei risultati Da qualche Parte In qualche Modo Perché La legge Di conservazione Dell'energia È valida Sui piani Superiori Del pensiero E dell'aspirazione Proprio come Nella meccanica Ordinaria Ma Dal momento Che questa Forza Deve reagire Su colui Che l'ha messa In moto E non può Farlo sul Piano fisico La cui materia È così Più grossolana E limitata Come E quando Produrrà Il suo Inevitabile Risultato Semplicemente Aspetta Che l'uomo Raggiunga Il suo Livello Rimane Immagazzinata Finché Non arriva La sua Opportunità Finché La consapevolezza Dell'uomo Resta Focalizzata Sul piano Astrale E fisico Essa Non può Reagire Su di lui Ma Appena Egli Si trasferisce Interamente Al piano Mentale Questa È lì Pronta Per lui Il Rompe fuori Dai cancelli Inizia La sua Azione Così Una Giustizia Perfetta Viene attuata E nulla Si perde Anche se A noi In questo mondo Più basso Sembra di non essere Giunti Al nostro scopo E di aver perso I nostri Obiettivi Perfetto